Ehi Rami, scriviamo la lista Babbo Natale? Chi è questo Babbo Natale? Oh, lui è meraviglioso! È vecchio, è ciccione e ha una bella barbetta Scusa, allora è come Bertram! No, a lui piace il suo lavoro Controlla ogni bambino in ogni momento Sa quando stai dormendo, sa quando sei sveglio Un vecchietto ciccione che ci spia in ogni momento del giorno? È una mia impressione o è davvero inquietante? No, è grande, perché se sei stato buono, lui ti porta ai giocattoli E se invece sei stato cattivo? Non ti conviene Ok ragazzi, devo comprare tantissime cose, perciò muoviamoci Io voglio vedere Babbo Natale Lui è qui Rami, perché sei spaventato? Perché Zuri mi ha raccontato una storia orribile su un signore grasso indisponente Un corpulento ficcanaso, ossessionato dai bambini e dalle loro marachelle Questo Babbo Natale non esiste Non è vero, già sì Ma certo che Babbo Natale esiste E gli piacciono i bambini Intendi per colazione Oh, per favore, Mogli Guarda, c'è Babbo Natale Ehi, i bambini educati aspettano il loro turno Ma se volete saltare la fila e sedervi in braccia al capo Vi basta sganciarmi un po' di soldi Ehi, Cessi Il buttafuori di Babbo Natale ha cercato di chiederci una tangente Ragazzina, questa è davvero orribile come accusa Mettetemi in fila Non parlare così ai bambini Ti prego, non provocare il feroce braccio destro di Babbo Natale Sparite Prima che dica a chi so io di mettere questi bambini sulla lista dei cattivi Nooo Non parlare così ai bambini, ti tengo d'occhio Non preoccuparti, Zuri Tu e Ravi avrete il vostro turno in braccio a Babbo Natale Mi sta chiamando Kumeyama, il dio della morte Che dimora nelle fiamme di Naraka Andrà fuori di testa quando verrà in città il coniglietto di Pasqua